Il 2024 registra un incremento significativo nelle tariffe rifiuti per le famiglie italiane con Basilicata e Puglia che mostrano scenari contrastanti. Sono i dati che emergono dal rapporto 2024 dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva disponibile sul sito web www.cittadinanzaattiva.it. In Basilicata la spesa media per la tariffa di rifiuti è di 318 euro, in aumento del 6,3% rispetto al 2023. La raccolta differenziata si attesta al 63,7% vicino all'obiettivo nazionale del 65. Tuttavia ci sono disparità tra i capoluoghi Matera e Celle con il 72,8% mentre Potenza si ferma al 60,7%. Diverso il panorama in Puglia dove la tariffa media tocca i 427 euro rendendola la regione più costosa d'Italia. Anche qui si registra un aumento più 4,1% rispetto al 2023 con picchi ad Andria 471 euro. E costi più contenuti a Lecce 354, la raccolta differenziata regionale è inferiore al dato nazionale fermandosi al 58,6%. Trani raggiunge il 74% mentre Foggia resta a Fanalino di Coda con il 26. A livello nazionale la media per le famiglie italiane è di 329 euro con incrementi in oltre 75% dei capoluoghi. Sul fronte della raccolta differenziata l'Italia supera il 65% ma persistono grandi differenze territoriali. Al sud solo il 57,5% dei rifiuti viene separato correttamente contro il 71,8% del nord. Un altro aspetto cruciale è il comportamento delle famiglie italiane. Nonostante l'85% di chiari sensibilità al tema solo il 61% dei rifiuti viene differenziato correttamente. Le difficoltà principali riguardano la poca chiarezza sugli imballaggi e la gestione inadeguata dei servizi. Il divario tra l'impegno dichiarato e la pratica reale evidenzia la necessità di incentivi economici e campagne di sensibilizzazione per promuovere una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti.